Era il 24 aprile del 1991, un giovedì, Eraldo Cecchini, assessore socialista all'urbanistica e al traffico della Giunta Richetti, bersaglio di polemiche e attacchi politici da parte dell'MSI, fautore di quella politica di chiusura al traffico, dei cui risultati oggi sono in molti a godere, viene accoltellato a morte in via Sancilino. Stava preparandosi a partire per qualche giorno di vacanza a bordo del proprio camper. L'assassino è Luigi Del Savio, più noto come Gino Cugno, disoccupato, violento, alcolista in cura al centro di igiene mentale, che dopo aver vibrato una coltellata mortale in mezzo alle spalle dell'assessore, aspetterà tranquillo l'arrivo delle forze dell'ordine, salvo poi scagliarsi contro una pattuglia di poliziotti sul posto per arrestarlo. Dovranno sparargli ad una gamba per avere ragione di lui. Le cause alla base di un gesto che si abbattesse sulla città come un fulmine a ciel sereno non sono ancora oggi del tutto chiare. Al di là del clima, attorno alla figura di Cecchini, ci potrebbero essere ragioni personali. Gino Cugno odiava l'assessore che lo aveva licenziato dal lavoro di Becchino, giacché è coinvolto in una storiaccia di furti ai danni dei cadaveri. Inoltre, sarebbe stato sempre Cecchini a negargli un alloggio IACP, oggi Ater, di cui aveva fatto richiesta. Molti anche in seguito non hanno accettato queste versioni, ritenendo il delitto maturato anche dal clima di odio politico generato attorno alla figura dell'assessore. Del Savio non dirà nulla agli inquirenti. Morirà in carcere nel 2001.